Qual è la vera bellezza, signori? È forse qualcosa che va oltre la vista? Qualcosa che è capace di appagare l'animo umano attraverso i sensi e lo spirito? Quando guardi le cose per come sono veramente, le guardi con gli occhi del cuore. Quando vedi un paesaggio e senti che puoi stare bene lì, che ti rende leggero, libero e abbandoni la paura del domani, ci si può riferire alla bellezza di un gesto o di una gentilezza. La bellezza è a Porto Recanati. Qui le giornate dovrebbero finire sempre con un abbraccio. Un bacio, una carezza. Non esiste nulla che non possa essere risolto con un sorriso e una buona cena. Il raggio di luce colpisce davanti all'arte, che è capace di esprimere e rendere visibile il bisogno dell'infinito. E solo attraverso l'immergersi nella natura ed il segreto di vivere a colori, che possiamo ascoltare i suoni meravigliosi della vita, che ci trasportano in luoghi pieni di grandezza. Porto Recanati, il borgo di pescatori più magico della riviera del Copico. Contenuto realizzato grazie al contributo di Porto Recanati Turismo per la valorizzazione del territorio.